Benvenuti al consueto appuntamento con il nostro telegiornale. Apriamo il nostro notiziero parlando ancora di degrado a Capo Soprano. Il parcheggio ospedale Sud si è trasformato in una delle più grandi discariche abusive della città. Cumuli di rifiuti e atti vandalici continuano a dominare la struttura rendendo la terreno fertile per degrado e microcriminalità. Un fenomeno inspiegabile secondo il sindaco Trenziano Di Stefano per un quartiere in cui la raccolta porta a porta funziona regolarmente. Vediamo. Un parcheggio a pagamento che però al suo interno nasconde una discarica abusiva tra le più grandi all'interno del perimetro urbano. Al parcheggio di Capo Soprano la situazione non è mai cambiata negli anni nonostante il timido tentativo di ristrutturazione di diversi mesi fa. Allora intervenne la Ghelas per ripulire la struttura e renderla funzionale. Venne anche installato un impianto di videosorveglianza, un intervento che costò all'amministrazione diverse migliaia di euro ma che non portò a nessuna risoluzione del problema. Col tempo anzi le condizioni della struttura di Capo Soprano sono tornate peggio di prima. Il piano terrazza continua a essere usato dagli automobilisti a pagamento ma chi parcheggia è costretto a fare lo slalom tra accumuli di rifiuti di ogni tipo che non vengono rimossi da settimane. L'ingresso alle auto e ai piani inferiori invece è inibito da sempre ma se non è possibile accedere con le vetture a piedi diventa tutto molto più semplice. Il cancello lato sud è stato forzato ed aperto e così i piani inferiori della struttura sono predati incivili di ogni sorta che si liberano della propria spazzatura che ormai ricopre la quasi totalità del piano sotterraneo. Una situazione per la quale proprio in queste ore si è attivato il settore ambiente per coordinare una pulizia straordinaria. Nell'area principalmente sacchetti di spazzatura domestica un fenomeno inspiegabile secondo il sindaco Terenziano Di Stefano per un quartiere in cui la raccolta porta a porta funziona regolarmente. Credo appunto che ci sia un problema molto più serio perché il servizio porta a porta funziona bene. Ci sono anche le isole ecologiche quindi qualora l'utente, il cittadino non vuole tenere la plastica, il vetro, la carta o l'umido può comunque utilizzare le isole ecologiche. Non si capisce perché vanno a buttare questi sacchetti che si capisce che sono dei sacchetti proprio di spazzatura dell'utente urbano all'interno del parcheggio ospedale sud. Sono delle situazioni che ovviamente dovremmo studiare con dei medici perché c'è qualcosa che veramente nella testa di qualcuno non va. L'area comunque rimane stracolma di rifiuti e devastata dai segni di piccoli incendi appiccati probabilmente per cancellare le tracce che potrebbero ricondurre a chi abbandona la spazzatura. Questa è la cosa più grave perché probabilmente qualcuno per paura di essere scoperto ma lo scopriremo lo stesso. Ha cercato una volta pubblicato sui social la foto, ha cercato praticamente di depistare le indagini o di cancellare praticamente degli indizi ma noi già abbiamo tutto in mano e quindi agiremo immediatamente. Oltre ai rifiuti la vast area di Caposoprano resta preda di vandali e delinquenti che al riparo da occhi indiscreti la utilizzano anche per piccoli episodi di spaccio. Negli ultimi tempi sono state infatti ritrovate anche borse e documenti gettati via probabilmente frutto di qualche scippo. Il presidente della casa del volontariato Gero Buongiorno da settimane trova davanti l'ingresso di via Ossidiana cumuli di vestiti e articoli per la prima infanzia inutilizzabili e lancia un appello ai cittadini. Chi deve donare lo faccio con criterio senza però ledere la dignità di chi deve ricevere. Vediamo. Dal 2006 la casa del volontariato di via Ossidiana effettua la raccolta di indumenti e articoli per la prima infanzia destinati alle famiglie indigenti della città. Come ogni anno però quando arriva il periodo del cambio stagione alcuni cittadini confondono il centro di raccolta come un deposito per potersi disfare di ciò che non serve più. A nulla sono serviti gli appositi cartelli posizionati all'ingresso dello stabile con le modalità per effettuare le donazioni. Il presidente della casa del volontariato Gero Buongiorno lancia un appello al buon senso dei cittadini. Noi siamo favorevoli alla raccolta. Il problema della raccolta è che gli indumenti, i giocattoli, i passeggini, i girelli e tutto quello che serve per la crescita di un bambino venga lasciato all'associazione. Non venga abbandonata come avete visto voi all'ingresso della struttura o nella strada che arriva per entrare all'interno della struttura perché sono degli oggetti che poi non possiamo più riutilizzare. A prescindere anche che quando si dona la cosa principale è bellissimo l'atto della donazione ma va fatto anche con criterio. Una cosa che non puoi usare tu non la puoi venire a lasciare all'associazione che poi la deve ridare ad altre persone anche perché chi ha bisogno ha anche una dignità e noi dobbiamo rispettare la dignità di queste persone. Nonostante gli orari di apertura della casa del volontariato ben evidenti davanti l'ingresso, i cittadini preferiscono lasciare abiti e passeggini nella pausa pranzo o a tarda sera, quando in loco non c'è nessun volontario disponibile. Questo non è più donazione ma è abbandono di rifiuti. Difatti non hanno manca il coraggio di consegnarlo all'associazione perché qui viene tantissima gente a donare e segue i canali giusti della donazione. Viene condatta l'associazione perché all'ingresso della struttura ci sono gli orari di ricezione del materiale che è lunedì, mercoledì e giovedì. Ci sono i ragazzi del servizio civile che si occupano anche di ricevere il materiale però loro vengono in orari alle 2, alle 8 di sera quando sanno che qui non c'è nessuno e ti abbandonano il passeggino davanti il cangello o prima di entrare. La zona è videosorvegliata quindi sicuramente più avanti farò una denuncia, una segnalazione al comando dei vigili urbani per poter capire di un po' di arginare questa situazione. Un problema è stato riscontrato anche con i seggioloni e quelli da auto che adesso se non hanno il dispositivo antiabbandono non sono più utilizzabili per legge. Sì, difatti abbiamo 10-15 seggioloni senza dispositivo di antiabbandono e quindi non sappiamo che farne. C'è stato qualcuno che ci ha donato anche i dispositivi dell'antiabbandono perché si possono aggiungere però ne abbiamo parecchi che non possiamo più utilizzare. Quindi se una persona deve donare un seggiolino con l'antiabbandono va bene lo possiamo riutilizzare, lo possiamo donare a qualcuno ma senza antiabbandono è inutilizzabile. L'atto della donazione deve essere fatto rispettando determinati criteri e soprattutto non deve assolutamente compromettere la dignità di chi riceve quell'oggetto. L'unico appello che io faccio è quello del buon senso. Il buon senso è che devi donare qualcosa, la vieni, la doni all'associazione, la consegni all'associazione, poi l'associazione penserà a controllarla e vedere se è in ottimo stato e si può donare anche ad altre persone. Ma che tu vieni a donare cose che non hanno senso è meglio che te li tieni a caso o segui i canali giusti per lo smaltimento di quel rifiuto. La cronaca assisteva a una donna colpita da una grave patologia, contemporaneamente però ne avrebbe approfittato per sottrarle denaro. È stata condannata a tre anni di reclusione la collaboratrice domestica finita davanti al gruppo del tribunale. Pare che gli ammanchi di denaro fossero costanti, man mano accertati dai familiari e la donna assistita poi deceduta proprio a causa della grave patologia. La difesa dell'imputata ha optato per il giudizio abbreviato. È arrivata la condanna indicata sia dalla procura sia dalla parte civile nell'interesse dei familiari della donna derubata. Il giudice ha accertato le indicazioni poste dall'accusa ritenendole fondate. Il giudizio abbreviato così si è concluso con la condanna a tre anni. E sempre per la cronaca si è chiuso con la prescrizione il procedimento a carico dei due coinvolti in un'indagine partita da un ferimento in centro storico e poi culminata nella ricostruzione di una ritorsione armata. È maturata la prescrizione nei particolari in questo servizio. È stata accertata l'intervenuta prescrizione. Il collegio penale tribunale presieduto al giudice Miriam Damore ha disposto il non doversi procedere nei confronti del quarantenne Giatano Marino e del trentenne Andrea Romano. Erano accusati di aver organizzato ed eseguito una vera e propria ritorsione a danno della famiglia di un rivale che intanto aveva sparato contro Marino ferendolo in pieno centro storico. Colpi di arma da fuoco vennero esplosi otto anni fa contro l'abitazione di famiglia di Salvatore Noviziano che poco prima aveva affrontato Marino facendo fuoco. I fatti addebitati a Marino e Romano conflirono pure nella max inchiesta antimafia Stella Cadente che li vide coinvolti. La procura ha preso atto del non doversi procedere la difesa dei due imputati, sostenuta legale Francesconia pur non rinunciando alla prescrizione ha comunque fatto rilevare la sussistenza di una linea ricostruttiva diversa. Secondo il difensore non ci sarebbero conclusioni univoche per ritenere che Marino, ricoverato in ospedale dopo il ferimento, possa aver dato l'ordine di agire. Anche il ruolo di Romano per la difesa non sarebbe stato provato. Sono state indicate possibili contraddizioni e le dichiarazioni che vennero rilasciate sulla vicenda al collaboratore di giustizia Giovanni Canotto che durante l'istruttura dibattimentale ha rinunciato a testimoniare. La Corte di Cassazione ha confermato le condanne per Vincenzo Di Giacomo e Gioacchino Lignano. Entrambi furono coinvolti in un'indagine che fece emergere azioni volte a imporre la messa a posto ad esercenti della città. Avrebbero agito per conto della stidda. Sia in primo che in secondo grado sono state pronunciate le condanne. I magistrati di Cassazione hanno confermato la pena a cinque anni di reclusione per Lignano accusato di aver preteso pagamenti dal titolare di una rosticceria. I giudici di Cassazione hanno confermato la linea già esposta in appello che ha condotto alla condanna. Di Giacomo, secondo le contestazioni, avanzò le proprie pretese a danno del titolare di un centro gomme per la città. Nel procedimento si sono costituiti parte civile l'anti-racket, il titolare del centro gomme che segnalò le minacce per la messa a posto. Per altri imputati, invece, le contestazioni caddero nei precedenti gradi di giudizio. In Cassazione la Procura Generale ha concluso per la conferma delle condanne. E torniamo a parlare del caso Rugolo. Le proteste contro i silenzi della Curia di fronte alla condanna per abusi sessuali del sacerdote si allargono dal territorio di Enna al web. I fedeli, sostenuti da diverse associazioni, chiedono le dimissioni del Vescovo Rosario Gisana. La Curia replica difendendo, invece, l'operato del prelato. Vediamo. La protesta dai fedeli contro i silenzi della Curia di fronte alla condanna per abusi sessuali di Don Giuseppe Rugolo valica i confini di Enna e arriva anche sul web. Durante la manifestazione di sabato scorso è stato diffuso un appello con dei volantini sottoscritti da nove associazioni riunite nel coordinamento nazionale contro gli abusi nella Chiesa Cattolica, sotto l'hashtag Italy Church 2, con cui si chiedono le dimissioni del Vescovo Gisana, includendo anche la possibilità di sottoscrivere in prima persona l'adesione alla richiesta di dimissioni, inviando una mail o firmando la petizione diretta a Papa Francesco su change.org. Come sottolinea Antonio Messina, una delle vittime di Don Rugolo è portavoce della protesta. Grazie al sostegno del coordinamento Italy Church 2 contro gli abusi del clero in Italia e della rete l'abuso. È in atto una raccolta firme su tutto il territorio nazionale, ma non solo, perché è rivolta a tutte le nazioni che intendono prendere parte. È in corso una raccolta firme che richiede le dimissioni del Vescovo Gisana. Questa raccolta firme sarà chiaramente portata avanti per alcune settimane per poi essere inoltrate alla Santa Sede. Intanto non tarda ad arrivare la replica della curia per bocca dell'avvocato Gabriele Cantaro, legale della diocesi di Piazza Ermerina, che interviene in merito alla protesta al comitato non accetto predica da chi copre un abuso, inscenata in occasione della dedicazione della chiesa di Santa Lucia. Ognuno è libero di protestare, dice l'avvocato Cantaro, ma la protesta dovrebbe avvenire nel rispetto delle regole che impongono il rispetto della celebrazione di riti sacri e del sentimento religioso dei fedeli che vi partecipano. Il legale della diocesi di Piazza Ermerina ha anche fatto cenno alle precedenti manifestazioni al comitato che prendevano di mire il vescovo, Rosario Gisana, in merito ai silenzi sulla vicenda giudiziaria su Don Giuseppe Rugolo, condannato nei mesi scorsi a quattro anni e mezzo per violenza sessuale. Cantaro ritorna anche sulle azioni del vescovo, difendendo l'operato del prelato, che non rifletterebbe nessuna inazione. La valutazione dei fatti da parte della chiesa segue il suo corso, scrive, e il vescovo non ha mai mostrato tolleranza verso alcun tipo di abuso. Secondo Cantaro, infatti, le proteste delle scorse settimane non rappresenterebbero la comunità religiosa nel suo insieme, la quale, conclude il legale, invece sosterrebbe il vescovo, riconoscendone l'impegno. Secca la replica del comitato. Da parte nostra non c'è stata alcuna offesa al sentimento religioso dei fedeli, dicono. Ci siamo solo limitati a uscire dalla chiesa, compostamente e silenziosamente. Gisana sia coerente e si dimetta, invece. Un atto doveroso per restituire credibilità alla chiesa. L'emergenza idrica, che ha attraversato buona parte del territorio provinciale, ha lasciato diversi segni. Cittadini e associazioni in settimana terranno un sit-in davanti alla sede dell'Assemblea Territoriale Idrica. Ci saranno anche diversi sindaci del territorio. Vediamo. L'emergenza idrica, che in questi mesi ha segnato la quasi totalità dei comuni del territorio, con in testa Gele e Caltanissetta, peraltro nel capoluogo di provincia, lo scenario ancora molto grave, continua ad essere oggetto di forte preoccupazione. Una serie di realtà sociali, a partire dal Forum per l'Acqua e Beni Comuni, ha indetto un sit-in per giovedì prossimo, 17 ottobre, davanti alla sede dell'Assemblea Territoriale Idrica a Caltanissetta. Tutti i sindaci dei 22 comuni della provincia sono invitati a partecipare. L'iniziativa è volta ad avere da subito un incontro con i verticiati guidati dal presidente Conti. Lo scopo è duplice, cercare di ottenere iniziative per la massima tutela di tutti gli utenti e capire quali attività siano in cantiere per affrontare gli effetti di una crisi idrica che ancora adesso si fa sentire. A Gela, lo stato complessivo delle emergenze è rientrato entro standard non emergenziali, seppur manchi una distribuzione H24. La scorsa settimana, nel Dipartimento regionale della protezione civile, ha emesso i decreti di finanziamento per il potenziamento dei pozzi pantanelli, finalizzato ad un aumento delle riserve idriche per la città. Sono in corso inoltre i lavori di sostituzione della linea San Leo che dovrebbero permettere di superare i continui guasti. Cambiamo decisamente argomento. Da sempre sono molti canali di prestito scambio per chi ama la lettura. La più antica forma di prestito è la biblioteca. La forma più moderna che ha preso piede in tutto il mondo invece è il book crossing che è un modo per liberare i libri lasciandoli in luoghi pubblici all'interno di piccole casette. Il vero e proprio scambio gratuito tra sconosciuti amanti alla lettura adesso sbarca anche in città. Vediamo. Incentivare lo scambio gratuito di libri e la cultura è ciò che ha spinto due giovani fidanzati gelesi, Luca e Federica, a creare una casetta per i libri davanti l'attività commerciale della famiglia di Luca. Belle da vedere e capaci di creare grande curiosità, queste casette si trovano ormai in tutta Italia. Anche Gela sta riscuotendo un notevole risultato. Abbiamo deciso di crearla perché è un modo per far viaggiare la cultura e grazie a questa casetta si possono scambiare gratuitamente dei libri. Quindi chi vuole può portare libri che non legge o che non gradisce più e può prenderne uno in cambio. In questo modo abbiamo creato questo servizio accessibile a tutti in modo gratuito. Le casette dei libri sono uno dei modi migliori per non sprecare i testi che spesso lasciamo a muffini in casa e per diffondere con un semplice dono oppure con lo scambio il piacere della lettura. Il funzionamento è molto semplice. Chiunque voglia può prendere uno dei libri collocati all'interno della cassetta e possibilmente lasciarne un'altra propria scelta. Si tratta di un vero e proprio scambio gratuito che è la base della filosofia del progetto. Ci sono tre semplici regole. Sì, innanzitutto la prima regola è prendi un libro e lasci un libro in modo da garantire un equilibrio tra i libri presi e i libri donati. Puoi trattare i libri con cura e non gettare, non deturpare la casetta e non gettare i rifiuti. Come sta andando finora questa iniziativa? L'abbiamo condivisa online, abbiamo avuto molti riscontri positivi, molte condivisioni. Ai cittadini è piaciuta molto, quindi molto positivo. Deliziosi mini biblioteche a forma di casetta, dove tutti possono riporre o prendere libri senza bisogno di tesseramento. Sempre più popolari le casette dei libri, oltre che belle, promuovono lo scambio di libri tra sconosciuti e ormai le possiamo trovare un po' ovunque. Abbiamo creato anche dei gadget, dei segnalibri. Chi vuole può prenderli e usufruirne. Attraverso la lettura chi vuole può viaggiare semplicemente leggendo un libro. Inoltre questa iniziativa è già presente in altre parti d'Italia, quindi abbiamo pensato perché non non averla anche qui in città. Può essere anche un modo per creare delle nuove cose per la comunità. L'iniziativa ha avuto origine negli Stati Uniti nel 2009, dove sono comparse le prime Little Free Library, che in breve tempo si sono diffuse ovunque. All'interno di questa casetta che genere di libri si possono trovare? Un po' di tutto, sia per grandi che per piccini. Infatti vogliamo incoraggiare le persone a lasciare anche libri che non leggono, sia per adulti che per bambini. Quindi possiamo trovare romanzi, libri d'azione, libri gialli, thriller. C'è stato l'assenso in via amministrativa al progetto di fattibilità tecnico-economico per gli interventi al sistema fognario costiero della città. L'ammontare si gira intorno a 4 milioni e mezzo di euro il servizio. Nella programmazione degli interventi del ciclo idrico e della depurazione qualcosa si muove per il progetto di riordino del sistema fognario costiero cittadino. Prima Caltacqua e le Solati hanno dato seguito all'approvazione in via amministrativa del progetto di fattibilità tecnico-economico. Il presidente dell'Assemblea territoriale idrica Massimiliano Conti e i funzionari hanno messo le firme sull'approvvedimento. Sulla base dell'atto l'ammontare complessivo degli interventi si gira intorno ai 4 milioni e mezzo di euro. Il management di Caltacqua aveva provveduto a settembre proprio con l'approvazione in via amministrativa. Adesso è toccato all'Ati. Si tratta di lavori volti ad assicurare maggiori salvaguardie tecniche per i sistemi fognari delle aree costiere della città. La tutela ambientale su questo versante, soprattutto in passato, è stata messa a forte rischio. Ati intende procedere. Il progetto è previsto nel programma degli interventi infrastrutturali 2024-2029. Per ciò che concerne le manutenzioni straordinarie delle reti fognarie, la copertura finanziaria viene indicata a carattere pubblico. Il tema della copertura finanziaria si era posto durante una delle ultime conferenze di servizi alla quale ha preso parte l'amministrazione comunale con gli assessori Franzone e Diddio. Palazzo di Città ha rilasciato gli atti integrativi richiesti. Ad inizio della scorsa settimana, invece, la sindaco di Stefano, la delegazione dell'amministrazione a Palermo hanno ottenuto rassicurazioni al commissario straordinario per la depurazione rispetto al completamento dei lavori di ampliamento del depuratore di Macchitella in conclusione del 2025. C'è invece l'esigenza di riprendere i lavori del raddoppio del depuratore consortile. Sono tutti tasselli essenziali nella mappa del ciclo della depurazione alla quale si aggiunge il sistema Fognario Costiero. Il commissario straordinario durante gli incontri e gli scorsi giorni e soprattutto durante la visita dell'amministrazione comunale la scorsa settimana ha inoltre confermato il finanziamento per la rete fognaria di Manfria. E adesso, come tutti i lunedì, un'ampia pagina dedicata allo sport. Prosegue il digiuno di gol fuori casa della Gela, ancora secco in trasferta a Piana degli Albanesi. Il risultato finale della gara fra Biancazzurri e padroni di casa del San Giorgio Piana è di 2-0 a decidere la sfida maltese, autore di una doppietta. Preoccupa e non poco la prestazione dei gelesi, decisamente poco graditi alla piazza. Visto il mercato attuato dal direttore sportivo Bonafini e viste le aspettative venute a creare nel corso dell'estate. Il punto in questo servizio. Buon pomeriggio a tutti amici di Sportisili, benvenuti dall'impianto sportivo Licauli di Piana Albanesi. Oggi, quinta giornata, il campione di eccellenza, gione a San Giorgio Piana contro Gela. Finca anche Scalisi. Il primo a Scalisi cercare la corsa di Maltese. Va andare lui, ancora Maltese fermato. Ma il quale rimane lì, la schiaccia troppo a terra. Il numero dieci è San Giorgio Piana, Vero Torres. Fremondo, per sistemare una cosa, va proprio Chinnici. Bella la parabola di Giorgio Chinnici. Di Savasta che aspetta e poi potrebbe imbeccare lì a destra la corsa di Cochimano. Attenzione a lui, Cochimano! A centimetri. Tanto del bancarco qui, il Gela è una di quelle che può valere tanto già. Attenzione al frattempo al San Giorgio con Torres. Pallona al centro! La parata clamorosa, clamorosa di Valenti che rimane in piedi fino all'ultimo. È giocata nel 16. Va a cercare Maltese. Torrez, che va al tiro deviato. Valenti, in calcio d'angolo un'altra volta. Palla qui il piano. Attenzione, la corsa di Maltese. Tocco di prima intenzione per Rezzimati che può controllare. Entra in aria, cross al centro. Valenti non perfetto. Attenzione poi a Torrez. Davanti alla porta. Si sbaglia quello che poteva essere il primo gol casalingo. Chiara occasione di qualche tiro pericoloso. L'amato tiro contro uno. Attenzione come è che... Passa dove c'è con Maltese. E poi il tapio in vincente. L'ha segnato proprio lui. Proprio. Torres, non mi ha derrato. Stacco. Perfetto. Maltese. È stato Maltese. Maltese. Mi iniziano già creduto sul secondo palo. Scivolato un'altra volta a Bona Maison. Attenzione poi. Non arriva al centro del rigore. Il tiro. Provato. Maltese. Maltese. E c'è il 2 a 0. Ha segnato la doppietta Maltese. Allora al centro. Esce. Begli occhi. Un'altra volta. Qui tosto. Accature. Rialzano con il... San Giorgio. Esce un'altra volta. Spari casa. E adesso si libera. L'urlo di Friana degli Albaresi. Il San Giorgio vince per la prima volta in campionato in casa. Si sblocca oggi grazie alla doppietta del bomber. Maltese. Una prova importante. Più che sufficiente. Di tutti gli unici. Uno sguardo al basket. Prima di tornare ancora al calcio. Tarda ad arrivare il primo successo del Gela Basket. Sconfitto di misura al palatorre di Torre Nova. Punteggio finale di 59-58 in favore dei padroni di casa della Nova Basket. Primo tempo che vede entrambe le squadre esprimere al meglio il proprio gioco e lottare su ogni palla vagande. A riposo lungo il risultato è di 36-29 per degli ottimi biancazzurri. Nel terzo quarto i gelesi salgono in cattedra siglando 19 punti contro i 10 degli avversari. Vantaggio a 10 minuti dal termine di 16 lunghezze e partita che sembra praticamente chiusa. Ed è qui che succede l'incredibile. Nell'arco dell'intero ultimo quarto la squadra di coach Bernardo mette referto appena 3 punti e ne subisce addirittura 20 dagli avversari. Bravi a crederci e ribaltare una gara che sembrava essere giunta al termine molto prima della sirena finale. Seconda sconfitta in campionato per il Gela Basket. Primo Brindisi che tarda ad arrivare in attesa della gara di domenica prossima contro il Giarre. E torniamo al calcio. Spicca il volo del Niscemi di mister Fabio Comandatore contro il città di Canicattini. È arrivato l'ennesimo successo di una stagione che resterà nella storia del suo delizio giallo-verde. Risultato al novantesimo di 4-1. A prendersi la scena insieme al solito Federico Maia e Mamadou Diò. Stavolta è Giuseppe Parisi, Niscemi sedoc. Il classe 2000 ha siglato una doppietta che ha steso la squadra di casa ancora a 4 punti in classifica. Quinta gara consecutiva in gol invece per l'argentino Federico Maia che sta trascinando i giallo-verdi verso un traguardo incomiabile. Si torna in campo già tra 48 ore per i niscemesi in campo mercoledì in Coppa contro il Pro Ragusa già sconfitto all'andata per 3-0. La squadra eblea tra l'altro insieme al Niscemi è l'unica squadra imbattuta nel girone D. E si trova appena a due lunghezze della formazione guidata da Fabio Comandatore. Vince all'ultimo secondo la Vigor Gela. Al cospetto della Cibonaccorsi i Biancazzurri si impongono dopo una dura gara con il risultato di 2-1 in gol Campanaro su calcio di rigore e Strabone al 97esimo. Primo tempo con tante nitide occasioni da ambo le parti. Alla mezz'ora il capitano Campanaro segna su calcio di rigore. Nella ripresa la Vigor si fa pareggiare a pochi minuti dal 90esimo ed è divenuto dall'ultimo attacco, al 97esimo per l'appunto, arriva il gol di Strabone. La sintesi in questo servizio. La Vigor Gela torna al successo, una partita in cui è successo veramente di tutto. Il gol iniziale di Fabio Campanaro sul calcio di rigore nella ripresa e poi in un secondo tempo con un finale convulso. Prima il pareggio quasi allo scadere dell'Aci Bonaccorsi, l'espulsione del centrocampista Sferrazzo, un gol annullato a Fabio Campanaro proprio nel recupero e al 97esimo la stoccata di Kevin Strabone che regala tre punti alla squadra di Mirko Fauciana. Buon pomeriggio, dallo stadio Presti di Gela sta per iniziare la quinta giornata del torneo di promozione di sfida tra Vigor Gela e Aci Bonaccorsi. Subito il cross sul secondo palo e non posso credere che gol ha sbagliato da mezzo metro. Attenzione intanto all'Aci Bonaccorsi con il numero 11 divenuto, divenuto davanti a sé, un avversario divenuto. Tiro a giro sul secondo palo. Occhio a divenuto che scappa via, va col destro Mangione, esce con i piedi, respinge il destro a botta sicura di divenuto. Occhio qui, Tinnirello, atterrato, atterrato calcio di rigore, calcio di rigore netto per la Vigor, infatti neanche protesta la Gi Bonaccorsi. Parte Campanaro e gol! È in vantaggio la Vigor Gela, ha segnato il capitano Fabio Campanaro. Vigor Gela 1, Aci Bonaccorsi 0. Area di rigore, Gianrizio si allarga, palla sul destro, cross morbido, secondo palo. Non c'è nessuno però nell'area piccola e perde l'occasione del raddoppio. Ben costruita quest'azione, Mirabella, attenzione intanto proprio al numero 14, spampinato, azione pericolosa proprio al quindicesimo dell'Aci Bonaccorsi. Attenzione, adesso è divenuto, che sfiora il gol del pareggio e forse si fa anche male, magari per giustificare questo errore, ma ha sbagliato il gol dell'1-1. Vediamo cosa combina Ndiaye, certo è solo tra quattro avversari, prova l'azione personale Ndiaye. Un dribbic, attenzione, c'è la possibilità del tiro! E questo è un altro gol sbagliato, battuta subito veloce alla punizione perché c'è poco tempo, attenzione al gol da parte di divenuto. Secondo palo, ci arriva e c'è il gol! Fuori gioco, fuori gioco. L'ha rimessa ancora per la Vigor, guarda il cronometro del direttore di gara, siamo al 49esimo e 30 secondi, giocherà ancora per un minuto e mezzo il cross, primo pala, attenzione, diamo al tiro! Cosentino, ancora palla lunga, ormai si risbutta così, sperando che ci sia qualcuno. E c'è il gol! E c'è il gol! E' arrivato il gol! Proprio al 96esimo, il gol della Vigor Gela, credo con Lovissi, se non sbaglio, Strabone, che è di Strabone e va a segnare incredibile. Al 96esimo e 30 secondi arriva il gol, lasciami dire Giovanni. E' anche un gol meritato, recupero del recupero. E l'abito, credo, stia per fischiare la fine di una partita che sembrava indirizzata al classico 1-0 e poi nel finale è successo di tutto. Ed è finita la Vigor Gela, ha battuto l'Aci Bonaccorsi per due reti a 1. Cade il Terranova in occasione della terza giornata del campionato di prima categoria, punteggio finale di 6-0 in favore del Real Belvedere. Gara da dimenticare per i ragazzi di Mister Paolo Comandatore, già a quota tre sconfitte su tre nel torneo, con un solo gol segnato e nove gol subiti. Dopo una buona partenza nel campionato di seconda categoria, Real Gela viene battuto dall'Armata Sporting Casale, capolista del G1LG. Impietoso è il risultato finale che vede i gelesi sconfitti con un sonoro 6-1, a siglare il gol della bandiera del sodalizio locale il centrocampista Salvatore Spadaro. E naturalmente, come ogni lunedì, torna l'appuntamento alle 18.30 con Bar Sport. Fabrizio Parisi ospiterà nella redazione del Quotidiano e Gela Fabio Campanaro, capitano della Vigor Gela, e Raffaele Gambuzza, difensore del Gela. A seguire, alle 21, nella quinta puntata di Storie di Luce, Marco Di Menza, un artista del violino che vive di musica e per la musica, di recente primo classificato al Catanis Got Talent. Potete guardare naturalmente sia a Basport che Storie di Luce su Canale 98, al Digitale Terrestre, sulle nostre pagine social e sul sito www.quotidianoingela.it. Bene, questa era la nostra ultima notizia, siamo in chiusura, naturalmente se volete approfondire tutte le nostre notizie le trovate sul sito www.quotidianoingela.it, se invece volete rivedere o condividere tutti i nostri servizi li trovate tutti sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e YouTube. Per il momento è tutto, vi lascio come di consueto alle previsioni meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.